Una missione impossibile, qualcuno deve eliminare Cordova, George Peppard, Raffa Lone, 4 per Cordova, al TV24 alle 20.30. La BMG Video presenta, la Beatles, per la prima volta in videocassetta, due eccezionali film. The Magical Mystery Tour and Help. Spereo Hi-Fi, versione originale con sottotitoli in italiano. Finalmente, The Beatles. The Magical Mystery Tour and Help. Un grande evento per il piccolo schermo. Spereo Hi-Fi, versione originale con sottotitoli in italiano. Spereo Hi-Fi, versione originale con sottotitoli in italiano. Supermercati Brianzoli. Il tuo grande mercato. Io mi profumo solo con loro. Ma loro chi? I quattro profumi Bic. Quattro piccolissimi peccati. Quattro grandissimi profumi. Profumo Bic. Peccato profumato. Dove li trovi, figliola? Dovunque, padre. E costano solo quattromila e cinquecento lire. Il profumo Bic. Solo quattromila e cinquecento lire. Parfum Bic. Piccoli prezzi per grandissimi profumi. Ehi, guardate intorno. C'è sempre più gente che beve H. Secondo me qualcosa sta cambiando. Nell'ag? No, nel mondo. Ag. Il caffè. Oggi. Tra gli orrori della guerra nasce un fiore delicato come l'amore, ma rosso come il peccato. Noi vogliamo aiutare questa gente, ma prima dobbiamo insegnare agli uomini a combattere. Tolga quella facciata militare, Wicker. Hanno divise e missioni diverse. Chiedi al quartier generale se sanno qualcosa di una suora americana che sta qui tutta sola. Ma sentono di avere qualcosa in comune. È una pazzia. Ma bisogna farlo. Non mi ero mai sentita così insicura. Per una volta in vita tua non parlare. Un sentimento più forte della fede. Ora mi riesce difficile addirittura a pregare. Come se non mi avessi più diritto. Un angelo in divisa. Mercoledì alle 20 e 30.